diceva giovanni vorrei avere tutti i giocatori che mi capiscono come te perché io appena mi prendeva la palla io partivo era una cosa diciamo non detta da anni se ma era una cosa nostra perché la facevamo ci capivamo a volo io muovevo la manina così da dietro già lui mi capiva faceva finta di non guardare ma io sapevo che me la dava tipo marito e moglie no che due si capiscono e io lo capivo a Ciccio